Ciao, io sono Jessica e questo è un nuovo video della rubrica Google News in collaborazione con C2 Group che è il partner numero uno di Google for Education per l'Italia. In ogni episodio scopriamo insieme una funzione o una novità degli strumenti della G Suite. Oggi vedremo come pubblicare una presentazione di Google Slide o Google Presentazioni all'interno del nostro sito. Lo vedremo sia all'interno di Google Slide che su un sito creato con un altro sistema, nel mio caso WordPress. Io quindi ho già aperto la mia presentazione, però partiamo da Google Sites, quindi mi posiziono sul mio sito creato quindi con Google Sites e sulla destra dove ci sono tutti i comandi seleziono immetti da Drive. Qui andrò a cercare la mia presentazione, la seleziono e nella barra azzurra in basso vado a selezionare Inserisci. Ed ecco qui che la mia presentazione è stata inserita all'interno del sito. La posso anche ridimensionare se voglio sia in altezza che in larghezza, ma una cosa molto importante è la rotellina che compare in corrispondenza proprio di questo elemento. Quindi impostazioni e qui posso andare a decidere se voglio che la presentazione si avvii in automatico una volta che si carica e si carica la pagina. Se voglio anche che riparta dall'inizio una volta finita, quindi la riproduzione in loop. E quanto tempo ci deve essere tra una pagina e l'altra, quindi due secondi, tre secondi, cinque secondi o dieci secondi. Poi qui posso decidere anche quale deve essere la diapositiva iniziale, solitamente è la numero uno. Quando ho selezionato tutte queste impostazioni posso selezionare Fine ed ecco qui che ho importato la mia presentazione all'interno del mio sito creato con Google Sites. Un po' più lunga la procedura per inserirlo su altri siti, ma ugualmente semplice. Infatti dobbiamo tornare nella nostra presentazione creata con Google Slide e selezionare dal menu File, Pubblica sul web. Qui possiamo decidere se inserire solo il link, ma nel nostro caso vogliamo il codice per incorporarla, quindi fare in modo che sia direttamente visibile all'interno del nostro sito. Qui possiamo decidere anche la dimensione che deve avere all'interno del sito e come abbiamo visto prima ogni quanto tempo deve passare alla slide successiva. Selezioniamo anche in questo caso, possiamo selezionare anche qui se vogliamo che si avvii subito una volta che viene caricato il lettore sulla nostra pagina del sito e se vogliamo la riproduzione in loop, quindi che si riavvii direttamente quando arriva alla fine. A questo punto selezioniamo Pubblica, diamo la conferma con OK e copiamo il codice di incorporamento che ci viene dato. È un codice HTML, quindi andiamo sul nostro sito, all'interno di una pagina o di un articolo, andiamo ad inserire un blocco HTML e nel blocco HTML andiamo semplicemente ad incollare il codice embed che ci è stato fornito all'interno di Google Slide. Vediamo l'anteprima ed ecco che abbiamo la nostra presentazione con tutte le opzioni che abbiamo selezionato prima di pubblicarla. Se vogliamo bloccare la pubblicazione possiamo anche andare sempre nella stessa finestra, selezionare contenuti pubblicati e impostazioni e interrompere la pubblicazione. Questa era la funzione di G Suite di oggi. Se vuoi conoscere altre novità puoi guardare gli altri video della rubrica Google News e se vuoi scoprire come applicarle nella tua scuola puoi contattare Alessandro De Bono che è responsabile Google for Education di C2 Group. Trovi i link diretti qui nella schermata o sotto nella descrizione. Ti aspetto lunedì con altre Google News.